Una ventina di nuove telecamere, due varchi video sorvegliati all'attivazione del servizio antirapina. Cassola lavora sul fronte della sicurezza, programmando un investimento di 150 mila euro in quattro anni. Negli ultimi mesi sono stati già installati nuovi apparecchi elettronici nell'area del parcheggio del cimitero e nell'ex caserma dei muli. Ma le novità più importanti arriveranno con il nuovo anno, che vedrà l'installazione di nuovi varchi all'ingresso della città, uno a nord-ovest, l'altro a sud-est. I vatti mirano soprattutto, con la presenza della polizia che ferma naturalmente all'istante, a individuare le auto in cui il proprietario non è assicurato, non ha fatto la riflessione dell'auto, ha inserito comunque quell'auto nelle blackliste per cui furti o altri motivi per cui la prefettura, la questura o altri comuni hanno segnalato la presenza di queste auto. Intanto dal primo dicembre sono state intensificate le attività di vigilanza del territorio. L'orario più critici, soprattutto appunto dal primo dicembre al 6 gennaio, sono quelli di fine compere, quindi dalle 19 alle 21 di sera. In questo caso la polizia locale ha una pattuglia che prolunga di due ore l'orario consueto, che è fino alle 19, per evitare proprio, per controllare e monitorare le zone più critiche, centri commerciali e negozi.